carbolla a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovissimo video oggi siamo in compagnia di una persona salve a tutti e non dirò il suo nome perchè non so dire però nel senso allora questa volta io credo che questo video lo sto rifacendo non so quante volte oh oddio il trapper trapper pure abbiamo fatto un po parecchie volte questo po parecchio ma chi ha il trapper lo viso mentre piazzava una trappolina 4x4 visto è uno stupido la london vabbè puoi essere così uno così stupido e si torna dietro perchè uno gli ha sabotato la trappola sta ritornando lì no vabbè io glielo ritoglio la messa sulla finestra della 4x4 4x4 guarda la questo fa il gen veramente ce l'ha con la 4x4 ora la metto qui intorno alla 4x4 ora la metto qui intorno alla 4x4 ora guarda che me le cerco le botte però eh se l'ha messo a cercare lo risabottata per quanto non mi credo boh se l'ha messo a cercare di te l'ha una 4x4 dove ero senso le cazzo no se l'ha di questa non ci credo non glielo vado nelle vidette non glielo vado glielo vado a ritogliare e gli ha sabato del tutto Perché l'ha rimesso e se n'è andato Sto facendo il furbo Adesso torna per vedere se Se andrò a stasera Ah no Adesso E toglie la piazza E gli hai fatto perdere il tempo Ha fatto 3 gem Ho fatto 3 gem Tu e tu madre Vabbè Hai distratto il kill E lei ha fatto 4 gem E lei ha lasciato male Non sembra intelligente ma non lo voglio trovare Perché non sarebbe Ah Sei stupido Ah no Ma questo non canta Te lo dico Ero tutto felice che ho avuto Eh si Tu mi prendi quel culo Io ti apete e ti lascio lì Tu ti aprile e ti attacco al muro Eccolo Andalo Camperà No Sono stata andando via perché Deve andare a prendere la trappola Oh Quindi ti dico Alla 4x4 Sulla finestra ci sta la trappola Oh T'hanno salvato Vabbè poi la vado a togliere E sta anche il pallet sprecato Perché non mi ricordo se l'ho buttato giù No merda sta qua da me Aspettami No perché intanto c'ho cloudetto Mi nascondo di intanto c'è spuglio Questo è tutto marrone E Aspetto Forna In piccola giacchia forna Dentro il c'è spuglio Lo sta rompendo Ormai adesso io seguo questi due Mi sembrano fieri Sta piazzando la trappoletta Bravo Adesso Che sa fa E levati il cazzo E levati dei coglioni però E cioè voglio farlo pure il genere Ma fra quanto è stronza sta questa tipa Cioè se Si è messa Si è messa in una brachetta Si è messa di mezzo Per non farci passare C'ha Il perk del dottore Quello quando spaccia il gen Ti appare lo skin check Eh sovraccarico C'ho il sovraccarico Levati dal cazzo Mongola Mi sono ma la trappola Ok Non è vero Non c'ho Ah ho quasi finito il gen se mi viene aiutare Dove sta Dove stanno tutti quegli alberi Credo Sì sì Dove stanno gli alberi Ahia No Eh fra io con te Un generatore che ha metato Eh ho finito l'altro Eh sono la brachetta Non so se Se l'avete finito Vado subito alla Alla porta Alla metà Alla metà Oh la sotto Oddio Provò nel basement Pesano Ah io c'ho Infatti non ci era Adesso Non so che dobbiamo fare Provare Ciao Stima cosa Se ti avete L'ultimo giorno Mi si attiva adrenalina E quando va Da so Vai 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 E a 99 No ho l'attivato quest'altro C'era brutto spastica Apro la porta ma d'ossare chi la raccorda quello che non è perché il killer è arrivato qua non ho detto ai papi apri 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 qua quella dalla traporta questa questa cosa prendo un black corri come c'è la facciamoci a noi non so che doveva fare un totem è bene in questi pochissimi secondi sono a me ma questo voce mandare avvia guarda ma sto vedendo se viene qui ma facciamo il tempo di liberarla aspetta intanto ricarico lo sfidimento però a me ma deve cercare troppo guardare per quelle perché tanto lo so che dopo quando lo trova ci zappa no 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 lo stai fa sto tornando corri vieni no eccolo vieni qua sbrigati con chiù no no cazzo l'acqua c'è fuori di parte a voler ieri sono un po' egoistica amistata vabbè ce l'abbiamo fatta però a mezzo faccio i due partito c'è ma si fa sempre all'ultimo e c'è no idea ho fatto perdere tempo quel po' hai fatto perde il sacco dei tempi e c'è gli hai fatto fatto il cerno io ragazzi vi ringrazio di aver visto il video fino alla fine mi raccomando mangiate una buonissima carbonara perché quella è buonissima condividete il video e iscrivetevi e noi ci vediamo alla prossima ciao gente ciao